Per anni la camorra ci ha fatto il pacco, è arrivato il momento di ricambiare con la stessa moneta. L'idea delle cooperative sociali è quella di far arrivare sotto l'albero di Natale 2011 i prodotti coltivati sulle terre confiscate alla criminalità organizzata. Olio, pomodori, miele e marmellata ma anche pasta, caffè e cioccolato, tutto in un'unica scatola, 6.000 in tutto i cesti confezionati e acquistabili sul sito www.facciamounpaccoallacamorra.com o in alternativa presso la bottega dei Saperi e dei Sapori in Santa Lucia, frutto del lavoro dei volontari e delle associazioni che quotidianamente si adoperano per rivalutare l'economia sociale, quella che gira a dispetto della camorra. Come sottolinea Don Tonino Palmese, presidente di Libera Terra Campania e vicepresidente della fondazione Polis. Sono molti soldi recuperati e come dire il riutilizzo sociale sicuramente deve diventare un capitolo privilegiato. Noi confidiamo anche in questa nuova situazione che è l'Agenzia Nazionale dei Beni Conviscati, che ad ora dopo un anno abbiamo visto alcuni segnali ma ci piacerebbe vedere un accompagnamento molto più forte, più concreto e una riconsegna davvero alla città. E alle città di questi beni confiscati. L'aggressione ai patrimoni e ai beni delle mafia è il primo passo per sconfiggere la criminalità organizzata. Il loro riutilizzo è fondamentale per non creare nuove sacche di infiltrazioni, ne è convinto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Noi come amministrazione comunale per quelle che sono le nostre competenze lavoriamo in questa direzione. L'ho detto più volte, lo stiamo già facendo e mano a mano lo faremo sempre di più, quello di assegnare anche una parte del patrimonio comunale per iniziative antimafia, delle più varie, soprattutto per creare laboratori teatrali, musicali, culturali che sono anche l'antidoto alle mafie. Perché spesso le mafie hanno trovato consenso nella mancanza di alternative, dove giovani in alcuni quartieri non hanno alternative. Quindi il Comune in questo fa una lotta alla mafia, non solo rompendo i legami tra camorra e pubblica amministrazione, tra camorra e politica, ma anche dando alternative ai giovani. Grazie. Grazie.